L'artista esistenzialista, quanto è importante l'area scouting, oppure i direttori sportivi che fanno scouting o quelli un pochettino vicini al direttore sportivo e quant'altro, cambia poco, perciò parlo di area sportiva scouting. Possiamo parlare in parte della Juve, possiamo parlare di Marotte e di miracoli strafacenti all'Inter, parliamo, per esempio, del Brighton e potremmo fare anche un parallelo in prospettiva futura, per esempio per la Juve. Il Brighton ha un grande allenatore che è De Zerbi, giovane, quindi preparato, uno che studia, inventiva, creatività, geometrie, un po' di tutto. E poi c'è un scouting che chiaramente anche rispetto alle altre ha anche la possibilità, diciamo, a bocce ferme di potersi organizzare in prospettiva, che è una squadra che giustamente viene dal nulla, l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto quinta, quest'anno è ottava, cambia poco, però se non sbaglio sono arrivate gli ottavi, non so di Europa League dove cavolo sono, ma cambia poco, nel senso che comunque si valgono le soddisfazioni, fanno i loro investimenti, non buttando neanche tanto denaro, nel senso che hanno in Inghilterra, se non sbaglio, l'ingaggio annuale, una delle medie, se non più basse, poi ci manca, ok, cerca, perché c'è un'area scouting che lavora in silenzio, se non sbaglio, under 13, 14, 15, eccetera, eccetera, addirittura probabilmente anche a livelli superiori della Juve. La Juve, insomma, faccio sto parallelismo per dire, come tante società che può essere anche magari da noi l'Atalanto, eccetera, eccetera, insomma, ripeto, fanno un lavoro molto molto capillare, quindi perché vi dico è importante l'area scouting, per esempio, alla Juve, fino a qualche mese fa c'era Tognozzi che ha fatto dei bei acquisti, tra virgolette, per la next generation, per esempio, è uscito dal nulla, dal nulla, tra virgolette, non escono dal nulla, cioè che noi non conosciamo, ma loro sono preparati, come era scouting sicuramente, non so, sull'E e tanti altri giovani interessanti in prospettiva futura, o anche l'Ibdiz, e se ne parla anche ben divisa, tutti i nomi che stanno, per esempio, al Brighton non li conosco, però sicuramente a suo fattivo va lì perché si può lavorare, perché De Zerbe è uno che lavora con i giovani e quant'altro. Ecco perché vi dico, faccio il suo parallelismo, l'area scouting è sicuramente avere un allenatore giovane in prospettiva, e quindi è l'ennesima di conferma, ripeto, a parte Tognozzi verrà sostituito magari adeguatamente da una persona preparata, però c'è il fatto che giunto di lavori con i giovani e con un'area giovane, eccetera, eccetera, quest'anno la Juve ne ha sfornati tanti, solo un donge, se non sbaglio, mi sembra che non ha giocato, hanno giocato pochi minuti, però gli altri hanno giocato e pochi minuti Ildiz, sicuramente magari nell'alco dell'anno, se la Juve non farà acquisti a gennaio di chissà quale spessore, potrebbe avere più spazio. Sicuramente faccio un discorso di prospettiva futura per quanto riguarda poi un allenatore italiano, un allenatore o magari può essere straniero, maggiormente italiano, ecco che gli ho fatti i nomi di Italiano e De Zerbi, anche se poi De Zerbi ci sarà mezza Premier addosso, magari se Guardiola dovesse lasciare il Magistratissimi potrebbe anche andare lì, è un po' complicato. Però ripeto, signori però, quanto è importante l'area scouting? Facciamo quindi questo parallelismo fra quello che sono i risultati del Brighton e di tanti altri posti, là dove sono persone preparate, per esempio all'Atalanta che fanno un certo tipo di lavoro, o al Sassuolo, ripeto, più nel piccolo piccolo medio come in Inghilterra, addirittura con dei ingaggi molto molto bassi, si vanno a trovare degli sconosciuti, magari poi li rivendono, due o tre giocatori, ne trovano altri, qui al Brighton è capitato, ne trovano altri bravi come quelli di prima perché vanno a prendere i migliori, l'allenatore parla con l'area scouting o in altre società col direttore sportivo e chiede, che ne so, un centrale che sappia giocare bene con i piedi, o uno soltanto forte fisicamente, uno che possa essere di piedi sinistro o di piedi destro, un centrocampista che debba fare, un metodista bravo a fare già il pallone, tutto quello che vuole. Chiaramente viene comunicato al tecnico, il tecnico soprattutto, se poi è uno giovane preparato, riesce magari ad avere il meglio, fra tre e quattro elementi, tre e quattro giovani elementi, giovanissimi, i migliori che stanno un pochettino in giro per l'Europa, questo per esempio il Brighton già lo sta facendo, cerca di farlo, lo fa già la Juve, addirittura c'è anche una scuola dalle parti della Continastia e quant'altro, questo è il discorso quando hai l'area scouting a livello, dirigenti a livello e qualunque società, anche l'Inter lascia stare i parametri di sarebbe discorrendo, però sicuramente va su dei giorni in prospettiva, perché i debiti sono tanti, ma comunque riesci a galleggiare, in un senso o nell'altro, quando hai dirigenti bravi, anche nelle migliori aziende, aziende in difficoltà, anche aziende stanno in difficoltà, anche non riesci a essere a livello sportivo, capitemi, qui parliamo di calcio, ok, signori, se non hai i dirigenti preparati, gente che gestisce, che valuta, prende decisioni importanti in prospettiva futura, chiaramente fai fatica. L'artista esistenziale, buona serata a tutti.